Tragedia Cassano a Loionio, un motociclista di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in località Laccata sulla strada provinciale Cassano-Sibari. L'uomo di professione elettricista era a bordo di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro una vettura. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in un ospedale della zona. Sul posto, insieme ai soccorritori del SUEM 118, è intervenuto anche l'elisoccorso, il quale però si è rivelato inutile poiché il Centauro è deceduto poco dopo. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada provinciale è rimasta chiusa per l'effettuazione dei rilievi e il traffico è stato convogliato su alcune arterie comunali.